cosa dice l'articolo 13 della costituzione italiana l'articolo 13 della costituzione italiana parla della abitazione che non può essere perquisita messa a suo quadro da nessuno senza un preventivo ordine di un giudice vi devono essere delle reali motivazioni perché la forza dell'ordine entri in una abitazione privata per poter controllare ciò che è dentro l'abitazione questo per quale motivo durante il fascismo le squadre fasciste spesso andavano di casa in casa controllavano e violavano le abitazioni dei cittadini italiani per punire coloro che andavano contro il regime le squadre fasciste entravano dentro le abitazioni private spesso perquisendo senza nessun preventivo ordine di nessun giudice la legge permetteva che le squadre fasciste potessero entrare in una abitazione privata per poter controllare e punire tutte le persone che andavano contro le regime l'articolo 13 ha lo scopo di impedire quello che era avvenuto durante la dittatura fascista il primo articolo della nostra costituzione dopo i principi fondamentali cerca di tutelare l'abitazione dei cittadini italiani ciao al prossimo video vi aspetto ciao al prossimo video vi aspetto